La stagione estiva di Vittoria, in particolare di Scoglitti, si è appena conclusa facendo registrare un autentico successo in termini di numeri e partecipazione, e quanto afferma il rappresentante cittadino dell'UGL Aldo Caruso, soddisfatto dell'operato turistico e promozionale messo in atto dall'amministrazione comunale. La nostra organizzazione sindacale afferma Caruso non può che manifestare consenso e applauso al termine di quella che è stata un'importante stagione estiva. Il chiaro riferimento vale tante attività promozionali e turistiche sportive che, nell'arco dei mesi estivi, hanno prodotto lavoro e spazio occupazionale, numerosi infatti gli eventi che hanno mosso in maniera vivace la frazione riverasca, incentivando un maggior flusso di turisti provenienti da ogni parte della Sicilia e non solo. Un vero e proprio boom economico, poi rileva ancora Caruso, è stata la giornata del reculco, con la frazione letteralmente invasa da nostalgici dell'antica festa e da un alto numero di visitatori. Altro applauso, infine, alla gestione comunale degli ausiliari del traffico, conclude il sindacalista vittoriense che è stata data l'opportunità di lavorare e guadagnare durante il periodestino.